Benvenuti a tutti i docenti, tutte le professoresse e i professori, vi ringrazio della presenza e sono qui per parlarvi di questo tema, la resistenza nei batteri e nelle cellule tumorali, due mondi diversi con le stesse strategie adattative. Io sono un socio dell'Accademia, sono stata per 40 anni un docente di biochimica e biologia molecolare presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Torino e quindi mi sono occupata di molte ricerche, tra cui negli ultimi dieci anni anche in parte delle ricerche sulla resistenza. Quindi cominciamo questa esposizione che ha due parti, una dedicata alla resistenza nei batteri e l'altra alla resistenza delle cellule tumorali. Il fenomeno della resistenza, vi sottolineo subito, è uno dei fenomeni che più preoccupano i ricercatori e soprattutto i medici perché l'emergenza dei microrganismi resistenti e la resistenza multipla ai farmaci antitumore in campo oncologico rappresentano uno dei principali rischi in questo preciso momento rispetto alla salute dell'homo sapiens. Allora, cominciamo dal primo tema sulla resistenza nei batteri. Vedete che la dimensione del problema è immediata, vedete che 10.000 sono i morti per infezioni batteriche resistenti in Italia, 33.000 in Europa, 700.000 nel mondo. E vediamo, cominciamo da un problema generale, è quello della mappatura del resistoma batterico. Questo vuol dire nella figura di sinistra è rappresentato un numero 480 specie diverse di batteri e intorno ci sono 13 antibiotici e vedete che ci sono delle tracce colorate che partono da ciascun antibiotico e vanno verso uno diverso dei batteri. Questo sta a significare che molti batteri sono resistenti a più di un antibiotico contemporaneamente e che quindi trovare le combinazioni giuste per trattare le infezioni da batteri resistenti è estremamente difficile. Infatti nella parte destra vedete che se noi rappresentiamo la percentuale dei cetti batterici a sinistra e il numero delle antibiotici a cui quella determinata specie è resistente, vedete che ad esempio qui avete una specie la quale è resistente a un numero di antibiotico circa il 25% del totale di questi batteri è resistente a 7 antibiotici. Lo stesso vale per questo 6, 8, 9, 10, quindi vedete che il numero di antibiotici a cui una percentuale molto rilevante di batteri è resistente è piuttosto normalmente elevato. Questo disegno, quindi questa slide rappresenta il fatto che la resistenza è un problema molto complesso, la resistenza dei batteri perché sono presenti meccanismi molecolari diversi di resistenza e visto che i batteri proliferano molto rapidamente sono in grado di acquisire mutazioni nuove che inducono resistenza e quindi rendono difficile l'individuazione di farmaci che riescano a revertire o prevenire l'antibiotico resistenza. Qui vedete che sono rappresentati un numero molto rilevante di antibiotici e la percentuale dei ceppi batterici che sono resistenti a quel determinato antibiotico. Vedete che ad esempio, per fare un esempio, all'antibiotico trimetoprim, questo, il 100% delle specie batteriche è resistente, così come ad esempio alla tetraciclina il 60% dei ceppi batterici sono resistenti alla tetraciclina, quindi questo vi dà la misura per ciascun antibiotico qual è la percentuale di batteri resistenti. Allora, i principali meccanismi di resistenza, per riuscire a tentare di risolvere il problema è chiaro che bisogna conoscere i meccanismi. Allora, si dividono due gruppi, gli intrinseci, meccanismi intrinseci e gli estrinseci. Gli meccanismi intrinseci vuol dire sono modificazioni interni al batterio che giustificano quindi la sua resistenza agli antibiotici, estrinseci sono meccanismi esterni al batterio che giustificano lo stesso fenomeno. Fra i meccanismi intrinseci vedete qui elencati i principali che esamineremo nelle slide successivi, l'alterazione di membrana, i meccanismi di efflusso, la mutazione dei target, quindi in pratica dei bersagli dove gli antibiotici devono colpire, l'inattivazione degli antibiotici e una forma di adattamento metabolico dei batteri. Gli estrinseci li vedremo in un secondo momento. Vediamo prima gli intrinseci. Allora, uno dei principali fenomeni di resistenza è causato da alterazioni della membrana che costituiscono alla fine un grosso e importante meccanismo di difesa. La membrana, qui vedete ci sono due indicazioni di membrana, questa è la cosiddetta membrana esterna, out e la membrana interna. C'è una differenza grossa tra queste due membrane. La membrana esterna, che è quella per la difesa della sopravvivenza del batterio, chiaramente la più importante, è una membrana che è costituita da un doppio strato. Il primo è uno strato di fosfolipidi, quello sottostante, il secondo, che è il principale, infatti questa membrana esterna si chiama addirittura parete, rappresenta un insieme di molecole complesse, lipopolisaccaride o lipooligosaccaride, molto complesse, molto dal punto di vista della struttura chimica formata da polimeri, 50 unità per esempio di monosaccaridi, legati a una struttura lipidica. Questi sono tra loro legati da ioni divalenti e costituiscono la principale barriera di difesa. La membrana invece interna è una membrana molto simile a tutte le membrane biologiche fatta da un doppio strato di lipidi. Allora, alterazioni di questa membrana rappresentano delle cause, dei meccanismi estremamente pericolosi per l'instaurarsi della, chiamiamola, mancanza di difesa del batterio nei confronti degli antibiotici. Questo è un antibiotico che è in grado di eliminare i cationi divalenti e quindi creare una permeabilità all'ampidiotico. Come reagisce il batterio a questa situazione? Vedete qui nella scrittura che i lipopolisaccaridi e i glicolipidi che rappresentano la struttura di questa importante barriera è in pratica da mantenersi in un modo assolutamente determinato per il batterio, per impedire che l'antibiotico entri. Allora, quando la permeazione dell'antibiotico avviene, grazie come abbiamo prima detto, allora si ha un fenomeno di trasporto anterogrado, cioè di lipidi complessi dalla membrana interna alla quella che si chiama appunto membrana esterna, quindi di lipidi che qui vedete rappresentati in rosso e quindi si perde la cosiddetta assimmetria di questa importante membrana di difesa. Allora, i batteri a questo fenomeno che deve ripristinare la barriera dinamica riescono a ovviare, in pratica devono eliminare questi lipidi complessi nello spazio esterno, quindi nel spazio interno della membrana esterna e quindi operano questo tramite un meccanismo molto rilevante che è quello di utilizzare una fosfolipasi, cioè un enzima che demolisce questo strato abnorme di lipidi complessi, cioè di fosfolipidi che quindi sono troppo semplici per garantire la difesa, attraverso appunto la demolizione di questi oppure il trasporto di questi dalla struttura, quindi dalla parete, dalla membrana esterna alla membrana interna e questo è il meccanismo che ripristina in pratica la struttura asimmetrica di questa cosiddetta parete. Un sistema di difesa importante che media e che condiziona la resistenza agli antibiotici è quello della presenza all'interno della membrana, sia in quelli gram positivi che nei gram negativi, delle proteine che sono di solito delle ATPasi, cioè enzimi che utilizzano l'idrolisi di ATP per funzionare, le quali sono in grado, sono degli antiporti, sono in grado quando l'antibiotico entra di trasportarlo dallo spazio interno allo spazio esterno e quindi è un profilo che poi vedremo in un modo più approfondito nelle cellule tumorali che quindi in pratica ripete questo fenomeno di capacità di estrusione nel caso del batterio e dell'antibiotico, nel caso del tumore del chemioterapico. Qui è una rappresentazione tra l'accoppiamento in pratica di questi due che si chiamano due partners in crime, cioè il fenomeno di entrata dell'antibiotico e il fenomeno di estrusione. Quindi abbiamo visto come questa entrata condiziona una modificazione della membrana esterna, quindi della cosiddetta parete, la sua possibile riparazione e un meccanismo di una pompe cosiddette, quindi meccanismi che utilizzano l'energia dell'adenosine trifosfato per espellere l'antibiotico che è entrato e questo è un meccanismo di clearance degli antibiotici da parte della cellula batterica. Altri meccanismi di difesa intrinseci dei batteri, questi sono in grado di alterare in pratica i target, quindi i bersagli degli antibiotici con dei meccanismi di mutazione oppure di segnalazione intracellulare che il bersaglio non è più quello e quindi non può più essere riconosciuto. Questo per esempio è un esempio di se questo è l'antibiotico che ha la sua proteina all'interno del batterio proteina bersaglio, se viene modificata attraverso un gene che è in grado di modificare la struttura della proteina bersaglio, l'antibiotico non trova più il suo bersaglio corretto. Così se un gene è in grado di sintetizzare composti che occupano il sito che dovrebbe occupare l'antibiotico, l'antibiotico non riesce a funzionare effettivamente come inibitore eventuale della funzione di questa specifica proteina. E qui sono degli esempi di quali sono i principali bersagli che il batterio è in grado di mutare e gli antibiotici che rendono in pratica la loro efficienza inesistente grazie a questi meccanismi di modificazioni. I principali bersagli di queste modificazioni sono in pratica la parete cellulare, la membrana interna e quindi ad esempio modificazioni della struttura della parete e della membrana interna rendono praticamente impossibile l'entrata di antibiotici come ad esempio i lattami, la mancomacina, la becetracina, altri possibili meccanismi di modificazione e mutazione di metabolismo sono quelli che riguardano la sintesi dell'acido folico, che riguardano la sintesi degli acidi nucleici, che riguardano la struttura di queste due subunità, la subunità 50S e 30S che sono le due subunità del reticolo endoplasmatico e quindi in pratica modificano i batteri tramite mutazioni la struttura e tutto l'andamento della sintesi proteica per cui tutti questi antibiotici tra cui ad esempio non lo so il croanfenicolo che chiaramente tutti conoscete non riescono più a funzionare con un'attivazione del loro meccanismo di inibizione della funzione della sintesi proteica. Altri fenomeni intrinseci, i batteri sono in grado di inattivare gli antibiotici che riescono ad entrare, lo fanno tramite fenomeni, qui è l'antibiotico che lega la sua proteina bersaglio all'interno del batterio. Se questa proteina bersaglio viene modificato, viene modificata l'attacco dell'antibiotico al sito e la modificazione dell'attacco avviene tramite un'idrolisi dell'antibiotico stesso che viene quindi inattivato e seconda possibilità oltre all'idrolisi dell'antibiotico quindi una demolizione chimica dell'antibiotico si ha la possibilità di una inattivazione tramite una modificazione attraverso attacco di piccoli gruppi subunità che modificano completamente la struttura e la funzione dell'antibiotico e questo naturalmente previene totalmente l'attività del farmaco. Uno dei fenomeni di inattivazione degli antibiotici è rappresentato molto bene da questo esperimento che è un esperimento in cui si vede qui una piastra in cui è allevato diciamo un batterio che funziona da batterio test, batterio spia e questo batterio è sensibile alla diciamo attività diciamo anti antibiotica della telitromicina cosa che si vede molto bene se si introduce questo antibiotico all'interno della piastra e si vede l'alone in cui la crescita del batterio viene inibita. Questa la telitromicina ha questo spettro in cromatografia che è quello indicato in rosso. Se a questa piastra viene aggiunto un estratto ottenuto dalla incubazione di una della telitromicina quindi l'antibiotico che qui ha esercitato il suo perfetto effetto anti chiaramente si mette a incubare la telitromicina con un batterio che qui è indicato con JA7 poi si prende in pratica l'estratto di questa incubazione e si mette e quindi che contiene ipoteticamente la telitromicina più parte di questo batterio si vede che l'effetto scompare quindi la telitromicina non funziona più. Poi si va a guardare la struttura della telitromicina non si ritrova più lo stesso composto il picco che si ottiene questo blu. Il picco questa è la struttura della telitromicina la differenza tra la telitromicina e la telitromicina modificata da questo batterio con cui è stata messa in incubazione consiste nell'aggiunta in questo punto questo R di un radicale di glucoso quindi viene glucosilata. La glucosilazione rende questo antibiotico assolutamente inefficace quindi è uno dei meccanismi intrinseci che i batteri sono in grado di utilizzare. Un importante fenomeno che qui è rappresentato con uno slide che fa un po' paura però basta semplicemente ricordare che se si rallenta il metabolismo energetico e quindi si i batteri sono in grado di rallentare il loro metabolismo e modificare il tipo di riserva energetica che sono in grado di sintetizzare ed entrare in uno stato di dormienza quindi di inattività che li rende poco vulnerabili agli stress esterni inclusi soprattutto gli antibiotici e qui sono indicati in rosso basta semplicemente dare un'occhiata a quelle che sono le vie principali questa diciamo questa specie di dormienza viene indotta in alcuni cicli metabolici importanti tra cui la glicolisi tra cui il ciclo di Krebs tra cui la catena respiratoria con ovviamente la sintesi di ATP. In questo caso vengono invece in caso di dormienza vengono potenziate le vie metaboliche che portano alla sintesi di trigliceridi. Questo fa sì che il batterio che in queste condizioni rallenta in un modo notevole il metabolismo energetico a questo punto diventa poco vulnerabile agli stress inclusi gli antibiotici cioè diventa antibiotico tollerante. Fattori estrinseci che stanno alla base dell'antibiotico resistenza. Estrinseci vuol dire non sono fenomeni come quelli che abbiamo finora descritti che sono interni al batterio. Dal batterio può emergere quindi formarsi una o più vescicole sia da quelli sia dai batteri gram negativi che dai batteri gram positivi vescicole che contengono possono contenere geni quindi ad esempio DNA parte del DNA parte dell'RNA proteine che sono coinvolte nell'antibiotico resistenza. Tutte quelle che sono la causa che abbiamo prima visto delle possibili modifiche che rendono praticamente impossibile all'antibiotico di funzionare come effettivamente inibitore della crescita batterica. Allora visto che queste vescicole sono in grado di fondersi con ceppi antibiotico sensibili queste contribuiscono all'acquisizione quindi della resistenza del batterio da cui provengono se questo è un batterio resistente. Quindi questo è un trasferimento che media oltre al fenomeno della resistenza tutta un'altra serie diciamo di comportamenti patologici cosiddetta del batterio che riceve le vescicole ed è uno dei meccanismi esterni che il batterio è in grado di usare. La secondo meccanismo esterno è quello garantito dai batterio fagi sono dei virus che ovviamente parassitano o entrano nel genoma del batterio questi virus sono in grado di trascinare con sé in pratica delle staccarsi dal batterio e quindi utilizzare in pratica questi pezzi che si portano e portando portandosi con sé trasferendo ad altri batteri degli importanti pezzi che sono fondamentalmente dei cosiddetti geni agenti che trasferiscono geni tra cui geni della resistenza e quindi aumentano molti prodotti che sono anche prodotti che cosiddetti antropogeni quindi prodotti di eliminazione dei nostri sistemi di diciamo purificazione delle acque aumentano la quantità di batteri antibiotico resistenti e quindi i batterio fagi cioè i fagi che infettano il batterio resistente acquisiscono i cosiddetti geni della resistenza li trasferiscono ad altri batteri e quindi contribuiscono alla diffusione della resistenza in ceppi di batteri che originalmente non sono ovviamente tossici che sono apparentemente innocui. Una delle direi ultime fenomeni extra batterico che induce la resistenza agli antibiotici è l'interazione dei batteri con il sistema immunitario e questo è un tipico esempio quello del micobatterio della tubercolosi allora il micobatterio può essere può interagire ed essere inglobato da macrofagi che sono le cellule che sono in grado di funzionare come cellule che inglobano il batterio se i macrofagi sono macrofagi di tipo 1 quindi macrofagi che hanno alcune caratteristiche particolari tra cui quella di avere un metabolismo molto attivo e essere e sono in grado di funzionare in un modo molto vivace per quello che riguarda la loro azione battericida quindi sono in grado di uccidere batteri allora se i batteri del micobatterio viene inglobato da questo tipo di macrofagi di queste cellule fagocitanti allora normalmente viene ucciso per cui il suo destino è quello di essere eliminato se invece la l'interazione tra il macrofago e il batterio avviene tramite macrofagi di tipo m2 i quali sono hanno una caratteristica quella di avere funzioni anti infiammatorie proangiogenetiche quindi funzioni completamente diverse dal primi allora il batterio può sopravvivere se invece il batterio viene cioè il viene inglobato da una tipo di cellula fagocitante che è la cellula mesenchimale staminale questa induce nel batterio una situazione dal punto di vista metabolico di dormienza e quindi il batterio dormiente è un tipico batterio antibiotico resistente allora la strategia di reversione dell'antibiotico resistenza è in pratica dimostrato che la ricerca farmacologica non ha finora prodotto degli agenti efficaci nel revertire la resistenza naturalmente la cosa più utile che finora si è arrivati a decidere e quindi a stabilire è che visto che attualmente molto facile sequenziare il genoma batterico e utilizzare lo studio che è uno studio molto preciso ad ampio spettro delle proteine batteriche in grado di attivare la risposta immunitaria attualmente la strada che si è scelta è quella dello sviluppo di vaccini di cui qui è indicate sono indicate le diverse tappe verso patogeni antibiotico resistenti quindi le conclusioni di questa prima parte è che il fenotipo dei batteri che proliferano velocemente mutano e si adattano a situazioni anche molto disagevoli per loro favoriscono l'emergine tutti questi fatti favoriscono l'emergine di ceppi resistenti e tra questi stress ci sono gli antibiotici quindi l'uso degli antibiotici comporta l'emergere e quindi la selezione di ceppi resistenti nonostante questa enorme diffusione dell'antibiotico resistenza la nuovi antibiotici o farmaci in grado di revertirla finora non sono stati ottenuti e attualmente l'unica strada che si vede possibile è quella di utilizzare vaccini che attivano una immunità corretta antibatterica e sono probabilmente la soluzione la unica soluzione futura il secondo capitolo è quello della resistenza ai chemioterapici delle cellule tumorali quindi rappresenta questo uno dei problemi naturalmente che rendono molto difficile terapie efficaci nei confronti della della cura dei tumori la resistenza la cosiddetta chemio resistenza a questa sono normalmente chemio resistenti i tumori al momento della diagnosi in questa percentuale quando il tumore inizia a essere trattato aumenta da mettiamo 40 a 70 per cento la percentuale di tumori resistenti quando il tumore recidiva dopo una terapia in parte magari efficace la resistenza tipica del 90 per cento della delle cellule dei tumori e quello che early il quale è stato in pratica lo scopritore della chemioterapia dice che diceva la resistenza segue la chemioterapia come un'ombra fedele che questo vuol dire che effettivamente questo è un fenomeno che da cui è difficilissimo staccarsi e quindi attualmente si è cercato di indagare su quali sono i meccanismi molecolari e la possibile correzione di questi meccanismi allora i meccanismi sono molteplici questa slide ve li rappresenta in modo schematico tutti in pratica il la cellula tumorale diventa o può diventare resistente al chemioterapico per meccanismi di diminuita entrata del chemioterapico aumentata uscita e flusso del chemioterapico quindi capacità di eliminare il chemioterapico alterazione della membrana soprattutto per quello che riguarda i lipidi compartimentalizzazione del chemioterapico quindi chiusura in un reparto chiuso della cellula intracellulare e una serie di diciamo risposte della cellula tumorale soprattutto per quel che riguarda la riparazione del danno causato eventualmente dall'antibiotico entrato una inibizione dell'apoptosi l'apoptosi è la morte cellulare e una diciamo modificazione ad esempio che abbiamo già citato per i batteri dei cosiddetti bersagli dei chemioterapici tutti questi meccanismi sono stati indagati uno per uno e si è attualmente in un modo molto approfondito soprattutto all'inizio descriviamo rapidamente tutti i dati sul meccanismo di efflusso quindi l'eliminazione del chemioterapico entrato da parte della cellula tumorale allora l'eliminazione avviene tramite proteine specifiche che sono stati studiate in un modo molto dettagliato che si chiamano trasportatori abc abc vuol dire atp binding cassette che hanno una sono proteine che sono attraversano con queste con la loro struttura filamento proteico nella sua struttura primaria secondaria la terziaria è questa attraversano la membrana cellulare delle cellule tumorali c'è un primo gruppo di cinque di questi trasportatori che ha questa struttura quindi questa è la molecola proteica che ha questi 12 attraversamenti quindi vedete sono 1 2 3 4 6 più 6 12 attraversamenti della doppio strato lipidico della membrana e due siti citoplasmatici in cui si sistema l'adenosine trifosfato visto che sono appunto atp asi cioè enzimi che idrolizzano atp un secondo gruppo che è fatto da questi quattro vede invece che 12 ansi di questa proteina attraversante la membrana ne vede 17 e sono quelli qui indicati con questa sigla il terzo gruppo è costituito da un unico che ha unicamente una sei attraversamenti quindi una proteina molto più piccola e un unico sito di legame di atp qual è la funzione di questo sito questa è la rappresentazione schematica di questi trasportatori quando questa è la porzione transmembrana questa e questi sono i due siti nucleotide binding domain quindi domini che legano atp due atp allora quando la proteina la cellula incontra un chemioterafico la proteina in grado di legare questo chemioterapico lega nel sito citoplasmatico due molecole di atp nei due siti qui indicati si ha una prima idrolisi di atp che diventa adp questa idrolisi che libera energia modifica la conformazione della proteina in modo tale che il chemioterapico che si era legato alla proteina intendendo ovviamente entrane viene espulso a questo punto la molecola l'unica molecola per adesso di adp che viene prodotta viene rilasciata e allora si lega rimane un'unica molecola di atp che viene di nuovo idrolizzata l'energia che si libera permette la il ritorno della proteina la conformazione iniziale e quindi si rilascia la seconda scusate la seconda molecola di adp e rilasciata la seconda molecola di adp la proteina è di nuovo quindi pronta a ricevere una seconda in questo schema molecola di substrato per ripetere esattamente questo ciclo i principali di questi cosiddetti pompe oppure mdr multi drag che condizionano la cosiddetta mdr la multi drag resistance sono questi tre ritroverete nei simboli della della slide precedente sono le le tre proteine che hanno la maggior responsabilità della chemio resistenza nei tumori in cui questa è stata indagata due di queste che sono la prima e la terza sono qui rappresentate qui la prima qui la terza e qui sono elencati come se guardate poi in modo più accurato sono elencati un numero molto rilevanti di tumori che esprimono questa proteina e la seconda quindi la abcg2 questa tumori che in gran parte sono anche gli stessi e la cosa molto caratteristica è che queste due proteine quindi sono trasportatori che espellono il chemioterapico sono come si vede in questa figura coespresse quindi espresse contemporaneamente in più tumori qui ci sono tutti gli organi da cui nascono i tumori che contengono ambedue queste proteine di queste tre proteine che ho citato la più nota e la più rilevante è la cosiddetta pgp che vuol dire pglicoprotein di cui si è indagato e si conosce perfettamente la struttura primaria secondaria e terziaria che qui è rappresentata e di questa proteina in particolare anche delle altre due ma in particolare di questa si sono costruiti un numero molto rilevanti di inibitori manifestando ovviamente l'intenzione di rivelare l'inibizione attraverso un blocco dell'attività fondamentalmente tipiasica di queste proteine e un blocco della espulsione del chemioterapico tutti questi indicato questi inibitori che sono stati sintetizzati hanno manifestato un'affinità bassa una specificità molto bassa e una tossicità molto elevata questi sono inibitori anche qui seconda generazione neosintetizzati dopo i primi che in pratica sono in grado di inibire tutte le proteine che appartengono alla cassetta ABC anche questi hanno una tossicità così rilevante che questi due tentativi sono stati praticamente un fallimento finora. La terza diciamo cosiddetta terza generazione di possibili inibitori sono questi i quali hanno una alta affinità soprattutto per la PGP per la P-glycoprotein che vi ho detto è la più studiata e la più nota e la cui però funzione attualmente non è ancora così precisata e soprattutto non si sa ancora quale tipo di applicazione clinica possa avere. Questi sono non è il caso di guardarli in dettaglio comunque sono tutti i trials di fase 3 quindi è una specie di storia clinica degli inibitori dei trasportatori ABC i quali si sono rivelati inutili finora infatti la parola fallimento della slide precedente lo indica buona parte di questi trials sono stati interrotti e qui leggete o perché erano completamente inefficaci i farmaci oppure perché erano tossici in un modo assolutamente intollerabile. Allora il secondo diciamo approccio al fenomeno della chemio resistenza nei tumori è stato affrontato più recentemente attraverso a un atteggiamento di indagine che è improntato a questo oltre al fatto di avere la espressione di proteine che eliminano il farmaco il chemioterapico dalla cellula tumorale esistono nelle cellule tumorali delle caratteristiche tali che differenziano la cellula dalle cellule non trasformate e che possono essere oggetto di attacco e qui vedete l'elenco di una serie di caratteristiche di cosiddetti tumori che manifestano chemio resistenza che sono stati indagati l'uno per uno aumentata proliferazione aumentata produzione di vasi resistenza al sistema immunitario allo stress ossidativo allo stress del reticolo endoplasmatico alterato metabolismo mitocondriale metabolismo energetico e lipidico abnorme allora si è vista si è cercato di vedere una di avere una visione un po più diciamo allargata del metabolismo di una cellula tumorale per vedere se alcuni anche dei farmaci approvati che sono inibitori di pgp che però sono tossici possono essere alcuni e altri neosintetizzati possono essere utili e si è fatto un procedimento praticamente abbastanza utile attraverso attraverso una una forma di modellazione no e che di in silico di farmaci possibili candidati esaminando sia farmaci nuovi che farmaci che precedentemente erano stati utilizzati semplicemente come farmaci antitumorali in un modo generico si è analizzata l'affinità di legame l'affinità di legame in nelle singole proteine tra cui questa è la pgp che viene di solito utilizzata nella maggior parte dei casi le singole proteine vedendo sempre con questi modelli modelli matematici fondamentalmente in quale modo questi farmaci sono in grado di legarsi e al sito di legame del nucleotide quindi dell'ATP che abbiamo visto prima oppure al dominio transmembrana e il farmaco rosso per ciascuno di questi farmaci si è ottenuto il sito di legame di questo farmaco nella struttura della proteina in pratica è stata utilizzata quasi sempre soltanto la pglicoprotein un'altra diciamo importante possibile diciamo modo di affrontare un po' diversamente cercando di allargare il numero dei farmaci che possono essere utilizzati è quello di prendere delle cellule tumorali resistenti quindi indagare e quindi ottenere resistenti ad esempio a questi tre composti questi tre anticancro diciamo il metotrexate, l'ossaliplatina eccetera costruire il trascrittoma di queste cellule che vuol dire la totalità degli RNA di queste cellule e vedere quindi cellule resistenti indagine sul loro trascrittoma e verificare in quale modo questi farmaci che appartengono o a farmaci antitumorali utilizzati o a farmaci che manifestano tossicità nei confronti di un unico diciamo meccanismo di inibizione della PGP e vedere in quale modo questi farmaci si comportano rispetto alla diciamo comportamento nei confronti del trascrittoma di queste cellule resistenti una secondo approccio è quella della diciamo indagare su tutti gli inibitori di PGP che sono stati sintetizzati che si sono rivelati come abbiamo visto prima abbastanza talvolta inefficaci o talvolta pericolosi allora l'idea è quella di vedere se le cellule resistenti le cellule tumorali resistenti che di solito esprimono PGP scegliendo questa come proteina appartenente a questo gruppo di proteine che eliminano il chemioterapico vedere in quale modo e quali caratteristiche hanno di tipo abbastanza peculiare su cui si possa eventualmente intervenire queste cellule che esprimono PGP e questo è un primo esempio di una importante loro caratteristica queste sono due ceppi non resistenti e questi sono ceppi resistenti tant'è vero che qui vedete la banda della P-glycoprotein allora la cosa interessante è che le cellule che esprimono PGP e che quindi sono resistenti hanno come caratteristica quella di proliferare quindi di incorporare bromo desossi uridina che è un indicatore di proliferazione molto più attivamente e qui vedete la differenza rispetto ai due normali che esprimono pochissima PGP e in più se voi prendete queste cellule e trasferite queste cellule in animali che sono di solito dei ratti e si misura la crescita tumorale di cellule che hanno una PGP elevata wild type e una PGP silenziata quindi si elimina in pratica l'espressione della proteina PGP da queste cellule si introducono in animali di esperimento e si misura la quantità cioè quindi in pratica il volume e il peso del tumore si vede che l'espressione di PGP modifica notevolmente la quantità e la massa del tumore quindi la espressione di PGP è tumorigenica si dice con lo stesso tipo di meccanismo e diciamo di ripensamento di usi degli inibitori di PGP si è visto che cellule P5 cellule P1, 0, 5 queste sono cellule che non esprimono PGP queste sono cellule che esprimono PGP allora facendo una si prende si fa un test la coltura di queste cellule che siano in grado di essere trasferite sulla in pratica nella globo oculare diciamo di conigli gli animali sono conigli e si misura la quantità di vasi che queste cellule sono in grado di creare ex novo da in questa struttura oculare dell'animale e si vede che la cosiddetta angiogenesi quindi la creazione di vasi viene notevolmente accentuata dalle cellule che posseggono l'MDR cioè posseggono la glicoproteina quindi le cellule che esprimono PGP sono più angiogeniche cioè producono una maggiore quantità di vasi la stessa che è una delle caratteristiche tipiche di un tumore ovviamente invasivo un tipo di ripensamento anche di nuovi usi per gli inibitori di PGP è evidenza attraverso questi esperimenti che vi dico rapidamente le cellule che esprimono PGP e queste sono cellule che non esprimono PGP cellule che esprimono PGP allora vedete che le cellule che esprimono PGP hanno una quantità di quindi una capacità invasiva passando rapidamente attraverso dei filtri hanno delle manifestazioni di loro morfologia con pseudopodi che riescono ad aumentare a favorire il loro movimento che quindi le differenzia da quelle che non esprimono PGP quindi in pratica l'espressione di PGP rende più invasiva il comportamento di cellule tumorali lo stesso la migrazione la migrazione di cellule che sono diciamo posseggono la caratteristica dell'espressione di PGP è significativamente più molto più pronunciata questa migrazione no? e se voi utilizzate la inibizione di questa migrazione vedete che l'espressione di PGP condiziona una maggiore migrazione di queste cellule altri modi di ripensare a usi nuovi per gli inibitori di PGP sono possono essere dei farmaci immunosensibilizzanti allora si è esaminato il legame tra la chemioresistenza e la scusate che tolgo indietro e la resistenza al sistema immunitario questo è un esempio che vi dice che normalmente la chemioterapia una chemioterapia diciamo in assenza di un trasportatore che elimina il chemioterapico condiziona queste sono antracicline condiziona da parte della cellula tumorale l'esposizione di una proteina che si chiama calreticulina la presenza di calreticulina fa sì che queste cellule che sono in grado di diventare sono fagocitanti fagocitanti la cellula tumorale il riconoscimento da parte di queste cellule fagocitanti della calreticulina crea una fagocitosi della cellula tumorale la fagocitosi della cellula tumorale grazie all'intervento di una proteina emessa dalla cellula tumorale morente che lega un particolare recettore del fagocita crea in pratica tutto il procedimento del cosiddetto processing dell'antigene che quindi rende poi attiva i t-linfociti antitumore e quindi in pratica la presenza dei possibili PGP oppure uno qualunque dei trasportatori che elimina il chemioterapico dalla cellula riduce l'accumulo intracellulare di chemioterapici e impedisce la morte immunogenica quindi le cellule chemioresistenti PGP presenti sono anche immunoresistenti esistono degli inibitori di PGP attualmente che sono in grado di funzionare come sensibilizzanti chemioimmuno quindi in pratica funzionano sia come inibitori di PGP che come immunosensibilizzanti tra questi uno degli inibitori è questo tariquidar e un altro che è stato recentemente sintetizzato è un composto simile al tariquidar che funziona e vedete che questo composto che è qui rappresentato qui ci sono tre gruppi di cellule trasformate tumore del colon tumore del polmone tumore della mammella forma diciamo resistente forma non resistente quindi per ciascuno di questi DX indica un pretrattamento con doxorubicina che fa sì che si esprima la PGP e quindi le cellule di tumore diventano resistenti allora voi vedete che questo R3 che è il secondo dei farmaci che vi ho presentato nella diapositiva precedente questo R3 è un composto di notevole rilevanza perché riduce l'attività di PGP e notate che la PGP abbiamo visto nella seconda diapositiva che la descriveva un'attività tipiasica cioè consuma tipi qui viene misurata questa attività tipiasica e vedete che questo che è il R3 reverte notevolmente più o meno anzi è parallelo a quello che nella precedente diapositiva avete visto in parallelo all'R3 quindi reverte l'attività tipiasica cioè blocca l'attività tipiasica della PGP e aumenta l'accumulo di doxorubicina quindi in pratica voi vedete che nella cosiddetti resistenti quindi quelli che in realtà dovrebbero eliminare facilmente il chemioterapico voi vedete che si ha un ricupero dell'accumulo della doxorubicina che nel caso ad esempio del tumore mammario è molto rilevante quindi questo è l'accumulo di quella che del tumore che è diciamo resistente e questo è l'accumulo sia da parte del TAR del primo chemioterapico che da parte di R3 e quindi è in pratica un ricupero dell'accumulo di doxorubicina questo R3 è in grado anche di internalizzare quindi in pratica eliminando il PGP dalla membrana quindi la proteina farla entrare all'interno del citoplasma nella praticamente in quelli che nel reticolo endoplasmatico costituiscono delle strutture che qui vedete la struttura viene inglobata viene prima si dice la parola in pratica ubiquitinata quindi per essere eliminata dal proteasoma la proteina viene legata a ubiquitina o a poliubiquitina e quindi viene eliminata nel proteasoma per cui questo R3 è in grado di internalizzare la PGP e quindi ubiquitinarla cioè quindi legarla a questo indicatore di demolizione e quindi spingerla nel proteasoma e questa slide che indica in pratica insieme la ubiquitinazione questa è la PGP che pesa 170 Kilo Dalton e quindi questo composto ha una rilevanza notevole rispetto a altri nei confronti di questa eliminazione di PGP questo composto che è un composto relativamente nuovo come vi ho accennato è in grado di attivare la fagocitosi della cellula tumorale e quindi qui si vede per esempio l'indice di fagocitosi che viene significativamente aumentato espandere i cosiddetti linfociti citotossici che sono qui indicati i quali sono dei potenti azioni agiscono in senso antitumorale e vedete qui lo schema che vi ricorda come le famose cellule dendritiche che mangiano la cellula tumorale sono poi in grado di scatenare l'attività delle cellule T le CD8 più T cell che si espandono e quindi sono in grado di demolire il tumore per cui in pratica questo composto aggira l'immunoresistenza che abbiamo visto prima elencata come possibile diciamo creazione di danno da parte della PGP presente in una cellula tumorale resistente stress ossidativo le cellule resistenti hanno una potente quantità di enzimi antiossidanti si mantengono questi ROS che sono i radicali dell'ossigeno che sono praticamente l'ione superossido il perossido e qui vedete che una delle caratteristiche delle cellule resistenti è quella di avere una quantità notevole di enzimi tra cui la superossido dismutasi la catalasi e tutta una serie di enzimi che sono in grado di praticamente eliminare i ROS quindi questi radicali che sono causati e da chemioterapia e da radioterapia e da infiammazione e quindi essendo questi ROS mantenuti al di sotto del livello di citotossicità favoriscono in questo modo la sopravvivenza cellulare e la resistenza per cui le cellule resistenti hanno anche questa specifica caratteristica resistenza alla stress del reticolo endoplasmatico la stress del reticolo endoplasmatico è derivato notate che nel reticolo endoplasmatico vi ricordo che avviene la sintesi proteica e quindi una serie di cause che sono qui elencati diminuzione di metaboliti importanti modificazione di calci possia infezioni virali sono in grado di modificare il funzionamento della struttura del reticolo endoplasmatico e rendere praticamente facile la morte le cellule chemioresistenti sono anche resistenti a questo stress del reticolo endoplasmatico cioè sono molto più efficienti queste sono le proteine denaturate presenti nel reticolo endoplasmatico in funzione denaturate da chemioterapia da ipossia da radioterapia eccetera allora sono molto più capaci di eliminare le proteine modificate attraverso un'attivazione della loro eliminazione nel proteasoma di attivare far funzionare gli autofagolisosomi e quindi in pratica attivano queste vie di sopravvivenza quindi e sintesi dei trasportatori di ABC che sono in grado di eliminare le sostanze che inducono lo stress del reticolo endoplasmatico tra cui gli stessi chemioterapici questa è esattamente più o meno dice la stessa cosa questo stress del reticolo endoplasmatico che qui è indicato come proteine che hanno perso la loro struttura unfolded quindi hanno perso la loro struttura terziaria e secondaria la presenza di queste proteine diciamo denaturate attiva tramite una serie di fattori di trascrizione la induzione della chemioresistenza quindi inducono la chemioresistenza inducono la difesa dallo stress ossidativo e inducono una maggiore capacità di metastasi quindi le cellule chemioresistenti hanno anche questa specifica caratteristica allora mitocondrio le cellule resistenti hanno un rapporto alterato tra il fenomeno della cosiddetta fusione e il fenomeno della fissione mitocondriale queste alterazioni quindi in pratica oscillano queste cellule tra questi due stadi del mitocondrio cioè il mitocondrio che ha subito fusione quindi la fusione di questi mitocondri e la loro fissione quindi la scissione di questa specie di struttura che unisce più mitocondri permettendo a queste cellule un aumento del metabolismo energetico del mitocondrio qui vedete che la fusione aumenta in pratica la sintesi di ATP attraverso la fosforilazione ossidativa aumenta gli enzimi antiossidanti e quindi permette aumenta quindi aumentando la sintesi di ATP la clearance di tozzine e diminuisce la quantità di ROS la oscillazione fusione fissione a sua volta è in grado di diminuire i ROS citotossici dei mitocondri e quindi questa oscillazione abbastanza continua e rapida è in grado di garantire una diminuzione totale dei ROS e quindi una maggiore sopravvivenza le cellule resistenti hanno più lisosomi sequestrano i farmaci chemioterapici all'interno questo D sta a indicare il pH acido e la presenza di PGP quindi della P-glycoprotein sulla membrana lisosomiale attiva fattori di trascrizioni che promuovono a loro volta la sintesi di lisosomi che in pratica causano il sequestro e la inattivazione di chemioterapici quindi in pratica sono in grado tramite l'azione di lisosomi particolarmente attivi di sequestrare e inattivare i farmaci chemioterapici il legame tra chemioresistenza e metabolismo energetico e lipidico è rappresentato qui tutte le cellule resistenti hanno un fattore di trascrizione che si chiama hypoxia inducible factor il quale è costitutivamente attivo quindi non viene normalmente viene in cellule non trasformate viene indotto da infatti si chiama dall'ipossia però le cellule resistenti sono come se si trovassero in totale e continua ipossia cronica questa ipossia comporta un'aumentata sintesi delle proteine che eliminano il farmaco chemioterapico una resistenza al stress ossidativo una capacità di invasione quindi di staminalità quindi cellule trasformate e una capacità di riparare le lesioni del DNA e la sopravvivenza molto notevole quindi la presenza di un'attivazione costante di hypoxia inducible factor attiva una serie di geni che inducono chemio resistenza e resistenza allo stress ossidativo questo è una semplicemente non è il caso di andare nelle troppi particolari però la cosa importante è che questo hypoxia inducible factor induce un rimaneggiamento metabolico notevole che favorisce la chemio resistenza perché promuove praticamente la glicolisia anaerobia promuove la produzione di lattato e l'acidosi intratumorale stimola la uptake degli aminoacidi che sintetizzano quindi proteine e produce aumenta la quantità di glutatione che quindi protegge glutatione ridotto dai radicali liberi dell'ossigeno e quindi aumenta la sopravvivenza cellulare attualmente vista questa caratteristica specifica di queste cellule trasformate si stanno sperimentando inibitori di praticamente modulatori del metabolismo nel tentativo di chemiosensibilizzare quindi rendere più sensibili all'uso dei chemioterapici le cellule trasformate e qui vedete poi vi dirò come potete poi ricavare se vi interessa questi specifici nomi tappe che inibiscono delle tappe specifiche della glicolisi del ciclo di Krebs e di altri fenomeni metabolici che diventano inibitori che diventano dei chemiosensibilizzanti le cellule resistenti hanno una composizione di lipidi molto diversa perché devono mantenere efficienti questi trasportatori ABC la membrana è di solito più ricca di lipidi saturi e infatti la presenza di lipidi saturi invece che insaturi quindi presenti in questi lipidi acidi grassi con doppi legami i prodotti della lipoperossidazione di questi lipidi saturi non sono dannosi ma attivano dei pathway delle vie di sopravvivenza e di resistenza le cellule resistenti hanno una maggiore attività della sintesi del colesterolo e questa è la via di sintesi del colesterolo che produce aumenta la quantità e l'attività dei trasportatori e quindi gli intermedi che sono questi attivano delle vie di segnale che aumentano la quantità dei trasportatori tipo la PGP e altri due e quindi a questo punto è possibile inibire questo fenomeno e tutta questa via che induce la sintesi dei trasportatori utilizzando degli inibitori della sintesi di colesterolo qui sono indicate le statine che certamente tutti conoscete allora nonostante le conclusioni di questa seconda parte in realtà nonostante i fallimenti che sono stati numerosi sugli inibitori dei trasportatori è attualmente aperta ancora prima l'opzione di utilizzare farmaci che sono dei farmaci diciamo antiproliferativi in generale per altri usi come inibitori nuovi meno tossici e meno e meno chiamiamoli inefficaci in quanto tossici dei trasportatori ABC e sfruttare dei composti che sono concepiti inizialmente come inibitori dei trasportatori ABC come farmaci antitumorali e inibitori della proliferazione della metastasi diciamo capacità di metastasi delle cellule tumorali dell'angiogenesi produzione di vasi e modificatori del sistema immunitario nei confronti della cellula trasformata sia le conclusioni generali sono queste la resistenza batterica e la chemioresistenza sono la punta dell'iceberg di un fenotipo multiresistente sviluppato da batterio o da cellula tumorale allora correggere la resistenza bersagliando un unico farmaco è assolutamente inutile se colpiamo dei delle vie metaboliche che sono alla base di questo fenotipo multiresistente riusciremo a superare l'antibiotico resistenza e anche la chemioresistenza ecco voglio solo commentare brevemente il fatto che come avete notato in ciascuna delle slide indicate con le figure che abbiamo forse troppo rapidamente visto insieme sono presenti ritorno un attimo su una di questa per farvelo vedere ecco sono presenti le indicazioni di una pubblicazione con tanto di nome iniziale il primo autore e la rivista pubblicazioni per ciascuno di questi che permetterà al lettore di ricorrere alla bibliografia e la sitografia in cui voi ritrovate il DOI per ciascuno di questi lavori e quindi potete praticamente aprirvelo leggervi i singoli le singole illustrazioni delle singole figure perché capisco che alcune di queste sono poco visibili vedendole nell'insieme ma è abbastanza utile averle davanti magari ingrandite con il testo del lavoro che è stato praticamente il promotore di queste nuove osservazioni soprattutto quelle più recenti questa è sulla resistenza batterica poi ci sono quelle sulla resistenza tumorale e spero che sarete così incuriosite dal cercare questi singoli pubblicazioni e quindi vedere le singole figure magari ingrandite con relative spiegazioni molto più dettagliate di quanto siamo riusciti a fare in questo vi ringrazio molto dell'attenzione arrivederci